buongiorno raga non sento un buongiorno per me ma che è successa una cosa allora lo vedete sto dito questo beh non so se si può vedere però un po gonfio adesso vi spiego cosa è successo allora prima di tutto scusate per i capelli sta un po così perché avevo il casco prima in testa quindi mi si è spettinato tutto va bene raga prima ho chiamato a laci si chiama così vero e per insomma chiedere se è pronto sono pronti i documenti per il passaggio della moto mi ha detto che si è pronto quindi aspetto mio amoroso che ha già finito il lavoro ho già chiuso il giro però sta facendo un special qua trento quindi dovrebbe arrivare a momenti mangia e poi andiamo perché è aperto fino alle sei e mezza quindi si passiamo a oggi credo perché si può tendere anche da sola ma non c'è voglia capito già che lui ha finito tutto il lavoro e insomma gli manca pochissimo probabilmente sarà già di ritorno adesso allora vado con lui bene o forse no oddio la moto mio nome vi ridete conto vero cioè io non me l'avrei mai immaginato io credevo che la prima cosa che io avrei avuto a nome mio fosse una macchina magari una bmw ma invece no una moto che io probabilmente non guiderò mai ecco mi basta e avanza sto dito del cavolo che già mi da fastidio mi da sul nervoso perché in effetti è blu perché è blu cioè mi sono svegliata stamattina col dito blu non ci salirò più su quella moto lo giuro ho stra paura e stra ansia no 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 che poi non ho guidato io no ha guidato lui illegalmente perché non abbiamo la patente ancora però si io ho paura a guidarla sinceramente è stra potente cioè veramente no ma perché perché vabbè comunque mi sto bevendo una redbull per svegliarmi perché ci sono tra un po' in realtà prima avevo sonno quando stavo mangiando quindi ho bevuto una redbull cioè sono già a metà mi sono un attimo svegliata niente aspetto mio amoroso metto il telefono anzi no ce l'ho già in carica scherzo e niente sono già alle le 4-10 bene bella raga cosa fai? cosa fai? fai fai un occhetto per tutti come mai? perché tu sei pronto hai guidato male sei tu che hai guidato siamo caduti quindi adesso c'è un deco rompio tu hai fatto questo fai fai un occhetto adesso ho mal di culo mal di piedi impari questo è fai un occhetto è lì no? non sai dell' occhetto? è lì dell'altro quello su questo? questo è uguale o quello del mio? è uguale sempre occhetto sì vieni qua vieni qua non ti siamo fatto la faccetta? vieni qua due dittini solo un dittino ma come faccio? non riesco vai che ti devo andare a me ma hai sbrattuto sopra o sotto? quasi sono l'occhio blu? non puoi capire che devo metterlo mettiamo un deco tutto il vento e se no non pompa mica capisci? vai vieni qua vai vieni qua c'è un bello se no non pompa Che cattivo! Dr. House Dr. House Gazzetta roba Che stai con il mio sangue e di capisci Dove che vai scusa Prego Un moro pieno Un moro pieno Eh, tirare documenti Ho preso la tua camera Cos'è che fai? Non registrare Cos'è che fai? Devi andare lì dentro, si? Cos'è che lì dentro? Oio, dai che ti aspetto qua Con qualche carta particolare Scusa, cos'è che hai appena fatto? E cosa c'è dentro? Moto a nome mio Che cazzo lì è montato Guarda che si vede anche da qua Questa è qua Che c'è dentro Grazie. 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 Divertente. Grazie.